Nuovo record per il riscaldamento dell'oceano accompagnato da un aumento della stratificazione e dalla variazione di salinità delle acque, si legge in un articolo pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Science, firmato da un team internazionale di 24 ricercatori di 16 istituti, tra cui l'Enea. Tra le tante conseguenze è l'alterazione del modo in cui il calore, il carbonio e l'ossigeno vengono scambiati tra l'oceano e l'atmosfera. Le percussioni potrebbero venire non solo per la vita e gli ecosistemi marini, ma anche per gli esseri umani e gli ecosistemi terrestri. Grazie